Ciao a tutti, esordirei con un classico buona domenica, ma di buono c'è ben poco considerando il 4-2 del Mappei. C'è poco da dire, anche la notte non ha portato consiglio, anzi credo che alimenti l'incazzatura per il tifoso giuventino perché ieri abbiamo assistito a una performance che non saprei neanche come definirla. Ora, quello che vi ho detto ieri a caldo e ciò che ribadisco anche oggi, non associamo unicamente questo 4-2 ai due macroerrori di Scesni e all'autogol tragicomico di Gatti e nonché anche allo stesso errore di Gatti che poi crea il 2-1 del Sassuolo. Sarebbe troppo semplice effettuare questo esercizio e significherebbe anche adottare un ragionamento molto miope. Invece il discorso deve essere ampio, deve essere ampio e deve coinvolgere tutta la squadra che è sceso in campo al primo minuto, i subentrati, che ha preparato la partita, quindi l'allenatore, il suo staff. Perché poi magari questo punto lo affrontiamo assieme nel corso del pomeriggio. Non si può, non si può giocare in tono così superficiale. Io ora, al netto degli errori individuali che mai come nella partita di ieri poi hanno creato concretamente i presupposti a debacle, però ho sempre avuto la sensazione ieri durante le folate offensive del Sassuolo che la Juventus da un momento all'altro potesse prendere gol. Quindi al di là degli errori di Cesni e di Gatti. Proprio perché come la Juventus ha faticato in mezzo al campo basti pensare che Matteus, Enrique e Boloca hanno fatto un partitone, hanno dominato nel cuore nevralgico de Manto Urboso. E quindi è normale, è normale che se non sei connesso mentalmente, se non ci sono le giuste misure in campo contro il Sassuolo, per le caratteristiche nero-verdi, se loro azzeccano la giornata, ti possono mettere in serie difficoltà, come è successo puntualmente ieri. Poi vi dico anche che mai avrei pensato che la Juventus potesse perdere 4-2, anche in relazione al fatto che avessi guardato un po' di partite del Sassuolo, tra cui quella di Frosinone, dove era stato il Sassuolo a prendere 4-3. Dopo tra l'altro essere andato in vantaggio per 2-0. Quindi avevo la sensazione che la Juve si presentasse con una buona continuità, con una buona solidità al MAPEI e potesse fare, dovesse fare il risultato pieno. Ve lo dico sinceramente, immaginavo che la Juventus vincesse agevolmente. Quindi questa è una lezione anche per il sottoscritto, mai sopravvalutare nella storia recente la Juventus, perché l'avversario più ostico è la Juventus stessa. È vero che c'è anche il discorso di Berardi, perché alla fine ragazzi, se Berardi si becca il cartellino rosso come si doveva beccare al 58esimo, poi ne riparliamo. È ovvio che non ci si può attaccare esclusivamente a questo episodio, ma là la Juve è stata penalizzata e siccome è stato un grave errore arbitrale, anche del VAR, a mio modo di vedere, bisogna anche affrontare questo punto. Poi però, fine, cioè si dice che l'arbitro ha sbagliato, che il VAR ha sbagliato a non intervenire, fine, cioè non bisogna attaccarsi agli episodi, sebbene faccia una differenza, perché poi, episodio a maglie invertite, chissà quale sarebbe stata la percezione mediatica. Ecco, questo va anche sottolineato. Niente, 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 niente. Non c'era a salvare ovviamente niente. C'è da lavorare tanto, c'è da lavorare davvero intensamente, perché comunque le due battute a vuoto di questa stagione, ieri la prima sconfitta, poi il pareggio precedente con il Bologna, quindi Bologna e Sassuolo certificano come la Juventus possa anche alternare alti e bassi, come possa fare un'ottima, buonissima performance con la Lazio e al tempo stesso poi sciogliersi come neve al sole, come è accaduto ieri a Reggio Emilia. Questo è preoccupante, sì, questo è preoccupante, sì, dal momento che magari qualche tifoso legittimamente possa maturare ardite ambizioni. e l'ardita ambizione, tra le ardite ambizioni parlare eventualmente di Scudetto e quant'altro. Voi sapete perfettamente, sapete perfettamente, dal giorno 1 del pre-season stagione 2023-2024, quale sia il pensiero del sottoscritto, e non lo cambierò, lo dico subito, anche se poi la Juventus dovrebbe sinalellare una serie di risultati positiva, come era successo la passata stagione con gli otto vittorie di FIA. Io credo che ci sia una squadra realmente attrezzate per lo Scudetto, ma non solo a livello tecnico, anche mentale. E poi c'è la Juventus, che ha ampiamente nelle sue corde, specialmente con un solo appuntamento a settimana, la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione che conta. Io penso esclusivamente a questo obiettivo, che lo definisco un obiettivo realistico, in base agli alti e bassi che ci proporrà questa squadra. Pensiamo che ci limiteremo alla debacca di ieri. No, ci saranno performance che magari ci sembreranno molto solide, altre belle, a tratti bellissime, ma anche poi dei passaggi a vuoto a tratti inspiegabili. Io credo che l'annata sia destinata ad essere questa, e bisogna essere bravi a ridurre al minimo queste battute a vuoto per avere un cammino regolare che porti la Juventus a centrare l'obiettivo realistico. Ovvio, ovvio, che bisogna fare tanto, deve fare tanto l'allenatore, deve fare tanto il suo staff, perché al di là di Cesni e di Gatti, ieri si è visto un piano tattico che non ha funzionato, perché Dionisi è stato molto bravo a imbrigliare la Juventus, facendo densità in mezzo al campo, spaccando, allungando la Juventus, al tempo stesso ripartendo con i giocatori di maggiore gamba, Berardi, Lorentè, tutta gente che nell'uno contro uno, ieri è riuscita a trafiggere la Juventus ripetutamente, il Sassuolo ha avuto anche altre occasioni con l'Orientè, il stesso Berardi, squadra con poi il colpo di testa che aveva fatto anche una bella parata a Cesni, insomma, il Sassuolo è una squadra che ieri ha messo a nudo il limite di una Juve che però non può arrivare a un impegno settimanale, con la testa magari non settata sulle giuste frequenze come ha sottolineato, ha fatto capire Max Allegri in conferenza e ne parliamo oggi pomeriggio, perché quello non è accettabile, cioè io posso accettare che la Juventus perda, perché non stiamo parlando di uno squadrone ingiocabile, ma c'è anche modo in modo di perdere, sì, ok, ieri davvero gli errori individuali hanno pesato enormemente, enormemente, perché un gol se l'ha fatto a Cesni, tiro di l'Orientè, l'altro a Cesni l'ha consegnato a Pinamonti, prima ancora a Gatti, fa un passaggio a Sassuolo e da lì il gol, poi Gatti fa un autogol pazzesco, quindi sono errori individuali che pesano tremendamente, ma Sassuolo ha avuto le sue occasioni anche senza errori individuali, Sassuolo aveva sempre dato l'impressione di poter essere più pericoloso la Juve, Juve nel secondo tempo calcia una volta in porta e tra l'altro fa gol, tra l'altro fa gol con Chiesa, quindi c'è un mea culpa a livello di collettivo, a livello di collettivo soprattutto per come è stata preparata questa partita, è inspiegabile che ci possano essere delle battute a vuoto mentali se devi preparare unicamente un impegno a settimana, ma questa è la Juventus 2023-2024, quindi non sopravvalutiamola nella maniera più assoluta, probabilmente se c'è un aspetto positivo e non esiste di questo 4-2 è che anche il tifoso più ottimista abbia rimesso i piedi ben piantati al suolo e abbia compreso come l'imponderabile sia sempre dentro l'angolo e come la caduta possa essere sempre dietro l'angolo. Se questa Juventus non aziona questo, il cervello, rischia la brutta figura con chiunque, ma davvero con chiunque.